Salve a tutti e benvenuti su Liberi Oltre le Illusioni. Io sono Andrea Lesiani e vado a introdurvi in una nuova puntata della rubrica Estranei, che si occupa di Europa Orientale, Asia Centrale e Stati Ex-Sovietici, condotta da me e Alexei Poliansky con la giornalista Anna Zafiesova. La struttura di questo episodio è diversa dal solito perché è la seconda parte di una chiacchierata più lunga con Anna, che inizialmente verteva sui possibili scenari, sull'Ucraina in particolare, all'indomani dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Trovate questa puntata già pubblicata sul canale di Liberi Oltre e trovate due contenuti sullo stesso tema, uno con Vittorio Emanuele Parsi e un altro con Andrea e Mauro Gilli. La seconda parte invece della chiacchierata che andiamo a pubblicare adesso e che vedrete nei prossimi minuti sono una serie di considerazioni un po' più di ampio spettro che cercano di fare un paragone fra tre stati dell'Europa Orientale che sono appunto l'Ucraina, la Georgia e la Moldova. Gli ultimi due che hanno vissuto dei momenti elettorali importanti nelle ultime settimane. La prima parte della puntata inizia un po' in media stress, quindi è la parte finale del ragionamento che avevamo impostato nella prima puntata e quindi verte ancora sugli scenari potenziali della situazione in Ucraina. Poi la conversazione transita invece ha un tema molto importante che è quello della semplificazione crassa che spesso si fa quando si guarda l'Europa Orientale, cioè quella di ragionare per categorie manichee filorussi e filoeuropei. Cerchiamo quindi con Anna di fare un po' di chiarezza su questo tema comparando tre situazioni che sono quelle dell'Ucraina, in particolare l'Ucraina del periodo 2010-2014, quello che va dall'elezione di Yanukovic alla rivoluzione della dignità Euromaidan e le attuali situazioni di Georgia e Moldova all'indomani delle rispettive elezioni. Vi chiedo come sempre di mettere like, commentate anche per farci sapere cosa vi è interessato di più e se avete idee per contenuti futuri, se volete che ci focalizziamo su alcuni aspetti, siamo qui posta per leggere i vostri commenti. Vi ringrazio e senza altri indugi vi lascio alla puntata. Grazie a tutti e alla prossima. Rapidamente è giusto per dare dei riferimenti con degli esempi concreti di altri paesi. Praticamente Anna, quello che tu stai descrivendo, da un punto di vista politico-militare, più che associarlo a Israele, ho capito il tuo punto, però credo che un altro esempio calzante possa essere Cipro, dove la Repubblica di Cipro del Nord non è riconosciuta da nessun paese, se non dalla Turchia. Stessa cosa probabilmente accadrebbe per quello che la Russia chiama LNR e DNR, in cambio di sicurezze per la Repubblica di Cipro. Chiarezza sciogliamo l'acronimo LNR e DNR, insomma le Repubblica di Cipro del Nord. Attenzione, erano, perché Putin adesso dice che sono regioni russi, anzi territori storicamente russi, quindi non ci sono più le LNR e DNR. Infatti su Kerson, Zawel e Cedra hanno fatto l'annessione direttamente, senza dichiarare. Esatto. Questo fa vedere per l'ennesima volta quanto quelle entità erano strumentali a dare il casus belli a Putin e non avevano alcun senso politico, sociale, culturale di esistere. Invece quello che tu stai descrivendo da un punto di vista culturale, perché hai sollevato giustamente il punto che se per una serie di anni abbastanza lunga questi territori rimangono de facto controllati dalla Russia, si presenterebbe quello che è uno scenario coreano, ovvero due popoli che diventano due popoli distinti, che diventano due popoli che non si parlano e quello poi renderebbe estremamente difficile su un lungo periodo reintegrare quei territori, esattamente come abbiamo visto con Corea del Nord e Corea del Sud, che ormai pubblicamente entrambi i leader di entrambi i paesi hanno dichiarato che l'unificazione non è sul tavolo e non è praticabile in nessuna forma. Ma per carità, deve essere un incubo per i sudcoreani trovarsi in casa. Ma anche, tra l'altro, volendo parlare anche di una situazione meno estrema, anche la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, e vediamo come 30 anni dopo anche il successo di Ayrde e tutto, come dimostra come prima il distacco culturale e quindi politico, perché politica e cultura, il gap continua a non chiudersi e stiamo parlando di 40 anni in quel caso, ma lo vediamo già adesso come già 10 anni di occupazione russa hanno cambiato molto e stiamo parlando di un popolo che è lo stesso popolo, di famiglie divise, eccetera. Quindi, anzi, sappiamo dalle esperienze precedenti quanto una divisione, un muro, quanto l'illusione dell'89, la riunificazione a Germania, tutto torna bello. Io mi ricordo che il giorno che era caduto il muro ero per coincidenza a seguire una delegazione di democristiani tedeschi arrivata a Mosca, tra i primi che arrivavano, e piangevano perché dicevano il nostro paese si riunifica. E no, non si riunifica. Però quello appunto era il sogno che si potevano cancellare le ferite della storia, far finta che non esistano. Quindi io capisco benissimo che ci possa essere un ragionamento molto real di dire ok, lasciamoli, ci dispiace, il Donbass è ucraina, il Donbass è ucraina. Però è andata come è andata, ti abbassiamo la sala cinesca, facciamo uscire chi può uscire, chi vuole uscire, e andiamo avanti poi un giorno. Il rischio, secondo me, in questo caso, è che dipende da quanto tempo, perché se sono due anni, dieci anni, si potrebbe anche provare. Se diventano di più, per gli ucraini diventa l'obiettivo, la missione nazionale, quella di riconquistare i territori perduti. A quel punto invece di guardare avanti all'Europa, ovviamente si guarderà indietro inevitabilmente. Rizzi, anche di innescare delle dinamiche nazionaliste, diciamo, post belliche. Se ti tagliano un braccio, ti tagliano un braccio, non c'è niente da fare. Non è che poi te ne vai in giro dicendo che è bello, non è successo niente. Resti senza un braccio, puoi imparare a vivere senza, puoi farti una protesi, ma il braccio non c'è, è un trauma e non c'è niente da fare. Esatto, da questo dato, è utile stare un secondo su questo, perché di ragionare su questo scenario, cioè si parla spesso mentendo del problema del nazionalismo, se non del nazismo in Ucraina, in un paese dove in realtà il contributo dei nazionalisti, anche a Romaitan, è stato tra l'altro anche grande, ma li ha polverizzati elettoralmente, perché di fatto è stato il momento in cui tutti gli ucraini hanno fatto propri temi nazionalisti, a prescindere dello schieramento politico. E l'Ucraina oggi è quello, nel senso tu hai i hipster che hanno il tatuaggio del Trisub sul petto, e poi li trovi fuori dai bar di Kiev e va a fumare insieme al ragazzo di Azov con la protesi. Cioè lì è uno scenario che per noi è veramente distopico, perché il primo non l'ha visto. Il futuro però, questa è la situazione di guerra, quindi dove sono tutti nazionalisti, difensivi, ed è un nazionalismo progressista. Tra l'altro, per chi è interessato a questo aspetto, con Ludovico Zanetti ne ho parlato in una live fatta un paio di settimane fa, dove commentavamo le nostre esperienze in Ucraina. Ma questo è l'adesso. Se fra dieci anni si crea la cosa, non della vittoria mutilata, ma della mutilazione con la sconfitta, hanno diviso l'Ucraina, l'Europa ci ha tradito, l'America ci ha tradito, lì è l'humus per... Ora contano poco, ma domani potrebbero contare di più. Beh, aggiungo un'altra cosa, che comunque cambia anche la composizione etnico-linguistica, ovviamente, perché è vero che in Ucraina il russo si parla ovunque, però è vero che anche che più vai a est e più lo si parla, quindi è chiaro che a quel punto prevale anche molto di più. Cioè, mentre nell'ipotesi di una pace col ritorno dei territori può succedere quello che un politologo, secondo me molto intelligente, che segue l'Ucraina, che è un ucrainologo, Konstantin Skorkin, profetizza da un po' che dopo un po' rientra anche l'istanza del mondo russofono, assolutamente filo ucraino, attenzione perché la solita equazione che si fa nei media italiani, russofono-russofilo, un mondo ucrainofilo che però comincia a dire ok ragazzi abbiamo parlato ucraino perché c'era la guerra e non volevamo parlare la lingua del nemico, ma la guerra superata, abbiamo una nostra cultura odessa, che è russofona e non c'è niente da fare, abbiamo le nostre radici, vogliamo parlare la nostra lingua, quindi anche un dibattito all'interno dello stesso contesto politico, sottolineo, cioè che non mette in discussione la filiazione dell'Ucraina all'Europa, anzi, però richiede più spazio per, non dico un bilinguismo, ma comunque per la presenza del russo, della cultura russofona, a questo punto non russa, ovviamente, in vari contesti, ovviamente nel caso questa cosa succeda, anche a livello proprio numerico, l'Ucraina diventa molto più monoetnica e monoculturale, così come lo è già diventata, tra l'altro Putin che è il solito genio del male che fa le cose senza rendersi conto di quanto si fa danno da solo, l'occupazione della Crimea e di parte del Donbass, di una parte popolosa del Donbass, soprattutto Donetsk, ha portato, ha estratto dallo spazio elettorale ucraino un buon numero di nostalgici della Russia o comunque di persone che volevano una interazione più stretta con la Russia perché li ha resi russi quindi lui se li ha presi a Zelensky a Poroshenko prima e a Zelensky dopo li ha tolti quindi garantendo paradossalmente quell'unanimità dell'Ucraina che già è diventata enorme già nel 2014 con l'invasione del Donbass quindi anche persone che erano molto più molto meno diciamo filonato abbiamo visto come nei sondaggi il sostegno all'adesione alla Nato in Ucraina che era sotto il 50 adesso è schizzato ovviamente alle stelle perché hanno i carri armati russi in casa è chiaro che può andare a bussare alla porta della Nato quindi Putin in realtà chiamare la quinta colonna parrebbe pure brutto però quella componente dell'elettorato ucraino che avrebbe potuto essere più sensibile alle istanze russe l'ha tolta dal campo elettorale ucraino è vero che Putin non crede alle elezioni quindi non le importa niente però le maggioranze enormi di Poroshenko e poi ancora più enorme di Zelensky sono state garantite anche da questo ma poi e poi mi ricordo la domanda successiva la componente più sensibile alle istanze russe a parte quelli diciamo gli elementi proprio indipendentisti diciamo l'estrema destra russofile eccetera eccetera che erano degli animali un po' particolari molta di quella componente lì poi certo non votava Poroshenko votato Zelensky che era il presidente russofono che era diciamo che non si poneva diciamo né come europeista né come espressamente filo russo ma è stato chiamato europeista e filo russo cioè Zelensky si è presentato anche come candidato filo russo no no lo era ma ecco e qui mi collego al tema no? perché tu hai toccato tantissimi punti ognuno dei quali richiederebbe poi una trasmissione anzi commentate anche dicendo quali dei punti toccati sono più interessanti perché ognuno di questi punti veramente può richiedere ore ed è però interessante parlarne però mi vorrevo ricollegare insomma al tema anche degli stati confinanti e proprio sul tema appunto europeista filo russo cioè noi tendiamo a guardare diciamo le elezioni gli eventi elettorali soprattutto dalla guerra in Ucraina in poi in particolare come sostanzialmente paesi in cui c'è il candidato filo russo e il candidato filo europeo ora io parto diciamo da un'affermazione e poi vado alla domanda banalmente ne abbiamo parlato tante volte su Liberi Oltre anche il famoso Yanukovic che adesso possiamo definire un presidente filo russo non fu eletto su una piattaforma filo russa ma su una piattaforma europeista hanno portato avanti l'integrazione europea fino al momento in cui si decise di non firmare l'accordo di integrazione nel 2014 anzi alla fine del 2013 e iniziò poi a Roma e Dan ma questa cosa qui adesso la stiamo vedendo in Georgia sogno georgiano partito in teoria filo europeo che adesso verrà chiamato filo russo e poi anche in Moldova in realtà le elezioni sono state presentate sempre come candidata a Maya Sandu filo europea contro candidato filo russo però quando si va poi a scoperchiare la cosa è molto più complessa dato i georgiani sono quasi tutti filo europeisti esattamente aiutaci a districarci in mezzo a questo casino allora innanzitutto sì è una visione totalmente imperialista coloniale che noi continuiamo a pensare che gli ex satelliti di Mosca non hanno altro da fare nella vita che litigare con Mosca io nel 2010 ero andata a seguire le elezioni presidenziali Yanukovych-Timoschenko all'epoca vinte da Yanukovych e era qualche anno che mancavo dall'Ucraina e quindi mi ero presentata un po' appunto con quel frame anche perché era il frame che mi chiedeva il giornale di dire vince la Russia vince l'Europa il paese spaccato in due le solite cartine l'est l'ovest i russofoni gli ucrainofoni i cattolici gli ortodossi io sono arrivata a Kiev nel pomeriggio e la sera era totalmente evidente che nessuno dei miei interlocutori la vedeva in quei termini stavano scegliendo tra due modelli di sviluppo tra due modelli di fare politica tra due regioni perché poi il regionalismo invece sicuramente è una componente quindi l'est e l'ovest gli esportatori e gli importatori come me l'aveva formulato per esempio un politologo ucraino quindi più il Donbass versus le regioni occidentali cioè tante tante cose tanti criteri di divisione culturali politici eccetera eccetera dove la Russia cioè l'Ucraina si sentiva già totalmente non Russia in quel momento siamo noi che da fuori guardavamo e continuiamo a dire che l'Ucraina deve decidere che cosa vuole fare da grande l'Ucraina si sentiva non Russia discuteva molto serenamente su quanto era Europa con quali tempi si sarebbe avvicinata all'Europa quanto l'avrebbero fatta avvicinare all'Europa quanto le conveniva tenere i rapporti anche economici con la Russia ricordo che stiamo parlando del 2010 quindi di una Russia sicuramente non democratica ma nemmeno così aggressiva come la vediamo oggi ma il dilemma votate per Mosca o votate per Bruxelles cioè non votiamo per noi è un dibattito nostro interno e secondo me nel caso della Georgia abbiamo molto sottovalutato di nuovo questo fatto cioè che c'è una dinamica interna e la politica georgiana oltretutto complessa intricata estremamente variopinta dove non tutti quelli che hanno votato il sogno georgiano l'hanno votato perché vogliono tornare con la Russia infatti come dicevi tu l'80% circa degli elettori georgiani secondo i vari sondaggi ha assolutamente intenzionato ad entrare in un'Unione Europea però di questo 80% se vogliamo fidarci delle cifre ufficiali comunque un 30% di questo 80% per etiche elettorali di cui sono georgiano è 50 quindi un 30% ha deciso che l'Europa corrisponde all'opposizione per l'opposizione italiana che si è presentata alle elezioni con tipo 40 partiti divisi in 3 o 4 liste maggiori quindi c'è anche un voto estremamente disperso che il sogno georgiano stia perseguendo un modello straordinariamente russo di graduale autoritarismo con la legge sui agenti stranieri contro le ONG con la legge anti LGBT eccetera è evidente infatti secondo me il paragone tra Viktor Yanukovic e Bizina Ivanishvili cioè l'oligarca georgiano fondatore del sogno georgiano finanziatore del sogno padrone del sogno georgiano perché poi è un partito patrimoniale il posto del modello della prima forza Italia anche per essere un oligarca tra l'altro esatto e quindi secondo me è un paragone molto calzante cioè Bizina Ivanishvili è uno che nasce tutt'altro che filo russo anche se buona parte dei suoi soldi li ha fatti del suo imperio l'ha costruito in Russia diventa filo russo man mano o meglio diventa autoritario man mano che il suo potere comincia a erodersi quindi lui fa delle mosse per consolidare il suo potere a un certo punto ovviamente per consolidare il suo potere cosa deve fare deve rivolgersi alla Russia perché è la Russia che può aiutare a consolidare il suo potere che è quello che ha fatto Yanukovic che sostanzialmente ha cancellato nell'autunno del 2013 la firma dell'associazione con l'Europa per annunciare che avrebbe firmato quella dell'unione euroasiatica con Putin per un motivo molto banale perché l'anno dopo doveva farsi rileggere e sapeva che Provene avrebbe perso le elezioni aveva bisogno di soldi per rivincere le elezioni e l'unica persona in giro che era disposta a finanziarlo era Vladimir Putin in qualche modo quello che è successo in maniera diversa ovviamente ad Aleksandr Lukashenko cioè a un certo punto ha chiamato Putin e gli si è concesso perché era l'unico modo di rimanere al potere quindi secondo me facciamo sicuramente l'errore metodologico di considerare che le ex colonie russe continuino a vivere in una logica esclusivamente russia non russia mentre invece hanno una dinamica politica interna un dibattito degli interessi totalmente autonomi che non necessariamente si inseriscono in questa dicotomia a questo aggiungo così cominciamo a passare anche all'argomento delle altre elezioni perché qui cominciamo ad avere una cosa in comune quello che c'è ovviamente anche un divario generazionale cioè quello che poi è stato il prodigio che è riuscito a fare Zelensky probabilmente l'unico dello spazio post-sovietico a essere riuscito a farlo appunto a operare con la stessa demografia più o meno con la stessa sociologia a operare però un cambio generazionale cioè a portare al potere a predominare anche a livello culturale una generazione già se non nata in un mondo post-sovietico almeno formatasi in un mondo post-sovietico mentre invece in Russia hanno vinto i nostalgici in Georgia non ci sono molti nostalgici dell'unione sovietica però comunque rimane un paese per tanti versi molto tradizionalista incluso quello valoriale sicuramente molti sono non dico vogliono tornare con la Russia perché è un altro discorso ma c'è anche un discorso di nostalgia e sicuramente in Moldova è stato anche molto più evidente il discorso di una spaccatura generazionale e culturale tra i più anziani più legati all'unione sovietica e anche alla cultura russa e russofona e verso la generazione più giovane che è già andata in Europa anche a studiare anche a lavorare e molto più già di lingua Moldava barra rumeno aggiungo che in Georgia per esempio questa componente non c'è perché in Georgia non c'è una comunità russofona praticamente cioè non c'è la minoranza russa a parte gli immigrati russi recenti soprattutto esatto che sono antipugliani esatto e che non votano comunque in Georgia anche all'epoca sovietica i russi etnici erano censiti al 7% adesso sono lo 0,7% quindi in Georgia in realtà non puoi nemmeno in Moldova il discorso è un po' diverso perché c'è stata ci sono arrivati parecchi russi ucraini diciamo di lingua russa c'è stata una russificazione molto che è riuscita molto meglio di come poteva riuscire in Georgia è complice anche in Georgia magari guarda Anna chiariamo pure un attimo il concetto di russo etnico che diciamo si usa anche in inglese ethnic russian però può confondere nel senso che lo dico insomma perché è meno pratico cioè si parla di russi etnici anche per esempio in Ucraina quando si parla di persone che geneticamente sono sono di discendenza diciamo russa ma non necessariamente coincide con l'identificazione nazionale o con la lingua cioè nel senso in Ucraina è pieno di russi etnici ucrainofoni poi sono ucraini etnici russofoni e non è scontato nel caso tuo penso tu parlai proprio di diciamo russi minoranze io parlavo allora io devo dirti che alla parola russo geneticamente ho sentito un brimido perché sì sì lo so lo so capisco cosa vuoi dire allora quello si usa etnico no in realtà ma in realtà è forte che potrebbe essere anche culturale ma non si intende quello allora mettiamola così e stiamo parlando in questo caso con l'Ucraina di nuovo il discorso si fa più complesso anche perché l'Ucraina almeno parti del territorio ucraino sono state inglobate nell'impero russo 300 anni fa per la Moldova stiamo parlando alla fine di un territorio cioè annesso nel 39 col patto Moloto-Fribentrop quindi come i paesi baltici quindi un territorio dove si parlava prevalentemente un'altra lingua e c'era un'altra etnia dove poi come si è fatto per i paesi baltici dove i russi non c'erano non era una popolazione autoctona sono stati in maggior parte stati portati dopo il 45 per cambiare gli equilibri etnici appunto e quindi anche politici di quei territori tanto è vero che nei paesi baltici un altro dei paradossi era che se nelle repubbliche per esempio dell'Asia centrale i russi mediamente essendo colonizzatori erano i colletti bianchi erano i dirigenti erano gli intellettuali erano i medici gli insegnanti i direttori di fabbrica eccetera nei paesi baltici i russi tranne i dirigenti di partito erano mediamente i militari erano mediamente gli operai perché per proletarizzare russificare non so la Lettonia erano stati dei russi erano stati incentivati o addirittura proprio spinti a trasferirsi lì mentre degli autoctoni lettoni lituani estoni venivano deportati in Siberia quindi si è trattato proprio di un'ingegneria diciamo etnico-politica estremamente brutale in Moldova non è stata così brutale ma comunque c'è stata e quindi quando io parlo di russi in questo caso intendo russi che si sono trasferiti o sono stati trasferiti in un territorio che non era tradizionalmente russo o tradizionalmente abitato da un misto di autoctoni russi mettiamola così poi ovviamente anche qua tu mi insegni che li distingo sono tanti per esempio possiamo parlare di alcuni russi ruschi rassiani ma possiamo parlare dei russi del caucaso nel caucaso ci sono russi che vivono lì ormai da 200 o 300 anni che sono sì russi e però ormai come dire caucasizzati perché abitano sono arrivati lì nella notte dei tempi quindi ovviamente sono sempre discorsi da fare con molta prudenza io qui mi limito a parlare in questo caso nel caso della Moldova di persone educate in una cultura russa e russofona provenienti quasi sempre dalla diciamo dalla Russia e quelli che si sono trasferiti in quel territorio che non vi sono nati o almeno le loro famiglie non sono originari quindi nel caso dei giorgiani in Georgia il russo etnico è evidente perché i giorgiani sono diversi in tutto geneticamente culturalmente linguisticamente eccetera una lingua cartfeliana totalmente diversa dalle lingue il giorgiano ha un alfabeto unico al mondo come sono i giorgiani cioè i giorgiani si sentono unici e infatti non si è riuscito a russificarli anzi paradossalmente semmai sono stati i giorgiani a giorgianizzare la Russia e ricordo che il modello base dell'Unione Sovietica quello che Putin vorrebbe copiare e che molti potrebbero rimpiangere è quello brevettato da un giorgiano di nome Giugashvili che per chi non sapesse ha detto Stalin e lo dovevi lasciare come easter egg quello vabbè però questo è anche un programma informativo easter egg è bellissimo perché c'è sempre la east east possiamo facciamo la rubrica easter egg possiamo potevamo chiamarla easter egg la rubrica che avremmo potuto fare adesso ci mettiamo vi lascio qualche link pure sul discorso dei ethnic Russians eccetera per chi è interessato perché ognuno di questi temi è un mondo diciamo che l'ambiamo dopo avermi ascoltati volentieri anche su questo discorso di etnie e lingue sul quale siete specialmente Andrea a una conoscenza di tutto quello che è il mondo della linguistica formidabile non fate più partire su quel tema dovete arginare su quel tema il rischio di trascendere questo è il bello della diretta un paio di cose intanto per dare un punto forte a quello che stava dicendo Anna prima riguardo al fatto che gli ucraini sanno perfettamente di non essere russi io vorrei ricordare che già in tempi non sospetti nel 2003 Kuchma l'ex presidente ucraino fece il libro Ucraina in irasia ovvero già aveva avviato da un punto di vista di dibattito pubblico il tema del siamo un'altra cosa iniziamo un attimo a capire chi siamo cosa vogliamo fare da grandi eccetera poi in Moldova appunto come come avete spiegato la situazione era un po' diversa ma da un certo punto di vista anche simile nel senso che la Moldova così come l'Ucraina ha avuto specialmente dopo il crollo dell'Unione Sovietica una situazione in cui una parte della popolazione emigrava e andava a lavorare in Europa e un'altra parte andava a lavorare in Russia tipicamente così come in Ucraina questa distinzione si faceva tra uomini e donne le donne venivano a lavorare in Europa specialmente nel settore dei servizi per le famiglie mentre gli uomini andavano a fare lavori di fatica edilizia esatto edilizia carpentieri eccetera quindi da questo punto di vista c'è una similarità poi per quanto riguarda la Georgia ovviamente da un punto di vista etnico avete spiegato benissimo che non c'è particolare connessione anzi per chi non conoscesse per chi non fosse mai stato in Georgia posso dirvi che chi parla il russo in Georgia sono tendenzialmente persone della terza età sono persone che sono nate cresciute con l'Unione Sovietica sono comunque persone non giovani i giovani non parlano russo parlano inglese e non lo vogliono parlare soprattutto esatto e qui proprio volevo arrivare questo voleva essere il punto mio che appunto in Georgia chi parla russo sono tendenzialmente gli anziani le persone che sono nate cresciute con l'Unione Sovietica eppure lo parlano come seconda lingua a differenza di paesi come l'Ucraina come la Moldova dove il russo in tante zone è prima lingua in Georgia non lo è mai stato in Georgia la differenza giusto per dare proprio l'input è che in Ucraina ti può capitare con una persona anziana di parlargli in ucraino e sentirti rispondere in russo di avere questa conversazione che è surreale dove tu gli parli ucraino e lui perché è la sua lingua e ti aggiungo anche che tu comunque li distingui subito cioè mentre spesso a livello popo anche fisico stomatico tra un russo in ucraino è difficile un giorgiano porta i segni del non essere russo sulla propria faccia e nell'accento perché praticamente tutti i georgiani parlano russo anche quando lo parlano bene lo parlano comunque con un accento piuttosto inconfondibile perché è seconda lingua tra l'altro in questo la georgia non è neanche speciale nel senso che anche in Lituania se tu oggi vai e ti trovi in un ufficio e trovi una signora di 50 anni cioè non gli parli in inglese cioè gli parli in russo ma è anche capitato sotto una certa età l'inglese regna sovrano per noi per questo che parlo della spaccatura generazionale perché c'è proprio questa roba qua che come quando è stato fatto il passaggio dell'insegnamento nelle scuole dalla lingua nobile al francese alla lingua di globalizzazione in inglese ma è un passaggio che da noi è meno forte e più sfumato lì è veramente molto molto netto in realtà l'Ucraina è l'eccezione da questo punto di vista poi anche sul discorso generazionale vanno anche menzionate nel caso della Moldova e della Georgia la guerra di Transnistria e la guerra di occupazione russa del 2008 che anche qui portano due caratteristiche molto diverse nel senso che la guerra di Transnistria aveva un suo motivo per quanto abbastanza Lasco aveva un suo motivo storico culturale ovvero che la Transnistria era un'altra cosa era una parte non particolarmente simile a quello che era nota come la Bessarabia che è la Moldova odierna mentre nel caso della Georgia la Piazia e l'Ossezia sono ed erano ad ogni effetto culturalmente etnicamente georgiane e sono state sottratte come pura forma di occupazione come pura forma di guerra di invasione guerra di occupazione mentre nel caso della Transnistria i russi vennero fatti intervenire in un secondo momento nella guerra del 91-92 all'inizio era uno scontro solo tra separatisti e esercito regolare ed è questo forse che spiega anche perché al giorno d'oggi i giovani moldavi continuano a parlare russo così come i loro genitori così come i loro nonni spesso e volentieri nonostante ci sia una tendenzialmente forte tendenza alla lingua romena mentre in Georgia categoricamente con l'uso della lingua russa viene rifiutato già da un bel po' di tempo secondo me in Moldova c'è molto quella componente che si diceva che comunque si va molto di più in Russia a lavorare tra l'altro si va anche molto di più in Italia anche perché essendo la lingua piuttosto simile conosco tantissimi moldavi che si sono integrati in Italia che spesso non parlano italiano assolutamente senza accento quindi in realtà appunto anche il bilinguismo permette di andare in entrambe le direzioni e quindi sicuramente sicuramente sì però in Moldova c'è anche un altro fattore buppo perché siccome la Moldova poi appunto il Moldavo è rumeno tant'è vero che adesso si chiama proprio ufficialmente lingua rumena e siccome fin dal l'ugraino e il russo sono uguali il Moldavo è rumeno effettivamente non è uno statement politico quello di Anna nel senso non è controverso infatti tra l'altro qua noto che Maya Sandu la presidente della Moldava parla anche russo perfettamente ha rilasciato interviste russo ai giornalisti russi in esilio quindi è una che mostra anche una certa apertura nei confronti della cultura russa e dell'elettora pur essendo appunto di lingua e di cultura moldavo-rumena però siccome anche subito dopo l'indipendenza della Moldova si parlava molto di una unificazione con la Romania perché alla fine appunto la Bessarabia parte a Romania diciamo sarebbe stato abbastanza logico di nuovo una riunificazione cosa che però non si è fatta per vari motivi tra cui quello che buona parte della popolazione moldava non era esattamente entusiasta non solo perché in quel momento la Romania era un paese disastrato come tutti i paesi post-sovietici non era come entrare nella Repubblica federale della Germania e quindi diventare subito più ricchi era un po' unire due disgrazie in una e poi perché comunque c'era una parte della popolazione molto sovietica che diceva non siamo rumeni e che è rimasta quindi per quanto oggi non è all'ordine del giorno questa unificazione però c'è anche una parte dell'elettorato che magari non vuole stare tornare sotto una Russia ma non vuole nemmeno farsi inglobare dalla Romania anche perché la Romania oggi comunque è un paese oggi dell'Europa è molto più evoluta è più grande è più strutturata quindi potrebbe anche un po' inglobare la Moldova che è piccolissima in un colpo solo quindi c'è anche da tenere conto di quell'aspetto lì che non tutti gli elettori sono pronti a diventare rumeni insisto è un argomento che in questo momento non è l'ordine del giorno però potrebbe diventarlo e anche linguisticamente ovviamente più si parla rumeno più diventa ma perché un popolo rumeno dovrebbe essere vivere in due stati diversi quando potrebbe unirsi infatti credo che è un argomento che nei prossimi anni tornerà ancora a galla ciclicamente io spero che insomma chi ha ascoltato questa puntata si sia fatto poi è anche un po' l'obiettivo di queste rubriche diciamo la prima parte era più fare un po' il punto di quali sono le varie teorie insomma fare un po' di ragionamenti sulla cosa di cui parliamo tutti la seconda parte invece è stato proprio un tuffo in una parte di modo talmente complessa dove è quasi impossibile generalizzare su più paesi cioè comunque per poter generalizzare devi andare a scavare in mezzo alle differenze il caso della Moldova che effetta l'Ucraina è totalmente diverso proprio perché l'eterogenità linguistica lì funziona in modo diverso c'è una somiglianza linguistica con un altro stato che però comunque non si configura in una volontà automatica di unificazione nazionale scusa se ti interrompo aggiungo il Moldavo rumeno non è una lingua cioè non sono slavi e non è una lingua slava sono lingue romane cioè il rumeno è una lingua romanza che però è la più slavizzata delle lingue romane certo però comunque non è quindi non è nel mondo belarusso ucraino polac jugoslavo è totalmente un'altra roba assolutamente è una lingua molto dissimile alla nostra che non ha assolutamente proprio una specificità questo è fondamentale per capire diciamo quanto sia difficile e quanto sia banale e quanto sia forbiante andare lì e fare filo russo filo europeo è utile se dobbiamo fare un titolo ce lo facciamo anche noi per carità nel senso io mi assumo anche la responsabilità di dire il partito filo russo vince in Georgia e poi ti racconto che vuol dire o meglio non lo racconto io lo faccio raccontare a te Anna o a nonna Michelezza gli ospiti che invitiamo però ecco vorrei che e ci metteremo anche una letteratura sotto diciamo di questa conversazione di questa che ha rimanesse diciamo un invito a capire la complessità che però non è l'invito di alcuni commentatori italiani che è la scusa della complessità per giustificare il putinismo aggiungo un piccolissimo particolare che continua sempre a sfuggirci perché torniamo per scontato la Georgia non ha relazioni diplomatiche con la Russia quando parliamo di filo russi in un paese che non solo è vittima dell'aggressione russa non solo c'è un pezzo di territorio sotto occupazione della Russia da 16 anni ma non ha relazioni diplomatiche con la Russia quindi i filo russi del sogno giorgiano sono dei filo russi veramente un po' strani e lì appunto sarebbe da discutere e quindi oggi non facciamo in tempo ma magari ce lo riportiamo come backlog per la prossima puntata anche qui commentateci e diteci quali sono le parti più interessanti su cui volete che proseguiamo che è ok superato diciamo il fraintendimento di superata la banalizzazione filo russo filo europeo qual è la strategia che per esempio governa come dire i principali partiti e in Georgia e in Moldova ma anche ci potremmo allargare anche altri stati dell'ex Unione Sovietica ognuno ha un'interazione con la Russia particolare che assume dei caratteri formali o non li assume come nel caso della Georgia e poi ci sono dei comportamenti sostanziali in Georgia era famoso le pubblicità di sogno giorgiano che utilizzavano la guerra in Ucraina come esempio di non vogliamo che succeda questo quindi state attenti però quello non è essere filo russi o comunque può essere visto come tale ma è come dire perché altrimenti diventano tutti filo russi cioè Trump è filo russo i georgiani sono filo russi e a volte lo sono anche ma in altre situazioni no e anche lì semplificare il mondo in filo russi e filo ucraini o filo americani e filo europei poi diventa ognuno ci impedisce cioè diventa tifo da stadio anche con le migliori intenzioni e non ci aiuta neanche a essere utili a eventuali cause quindi grazie Anna che ci dà una mano insomma ogni mese anzi anche più spesso a cercare di passare un po' il rassegno un pochino di fatti fermo restando che il canale è per far vedere le cose complesse e poi le cose complesse vanno studiate quindi noi comunque vi lasciamo articoli sia sulla prima parte questa discussione che è più roba di attualità sia magari un po' di letteratura invece sui ragionamenti che abbiamo fatto nella seconda parte come sempre commentate mettete like diteci insomma anche su cosa non siete d'accordo specie sulla prima parte immagino che arriveranno commenti insomma anche magari un po' astri e nelle prossime puntate magari copriremo approfondiremo meglio alcuni di questi temi ci continueremo a occupare di Est Europa ed Ex Urs grazie di nuovo Anna Zafeso grazie Alexia Muriansky coordinatore insieme a Godovico Zanetti di redazione ucraina che prepara i contenuti e ci vediamo alla prossima puntata grazie a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti